Sono il peso dei tormenti del loro numero anonimo nella società e della privazione di diritti elementari e possono recitare la loro disperazione davanti a una folla di spettatori. I appreciate you of this. No! 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 Giungono altre donne. La speranza di guarire si ripercuote nella loro anima ad ogni anno. Il morso, come il rimorso, è aspro da sottomettere. No! 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 No!